Ciao a tutti, siamo con l'amico Claudio Rossi, possessore di questa meravigliosa Jaguar Palme, che nonostante l'aspetto è un'auto stradale, che appunto detiene il record qui a Varano della categoria. Claudio, giornata di divertimento, giornata di prove o te la butto lì? Giornata per attaccare il record, sei sincero. No, sinceramente, è una giornata che dobbiamo fare qualche test, dobbiamo sistemare l'assetto, poi non ne dà meno che oggi si rende una bella giornata, è un piacere comunque. Ringrazio molto, non so se è stato in tutto sincero, secondo me un pensiero al tempo ce l'ha, comunque in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie.